ciao a tutti in questo video vedremo tutte le caratteristiche del forno a microonde samsung mc32 j7035 dk e t un prodotto appartenente ad una fascia di prezzo medio alta che costa circa 150 euro se volete acquistarlo in questa pagina trovate il link all'offerta da un punto di vista strutturale le caratteristiche principali di questo prodotto sono le ampie dimensioni la capienza della camera di cottura è infatti di 32 litri un valore elevato che si traduce in dimensioni esterne più abbondanti rispetto alla media la larghezza del prodotto è di circa 52 centimetri l'altezza di circa 30 centimetri e la profondità di circa 50 centimetri questo forno a microonde si adatta quindi alle necessità di chi ha molto spazio a disposizione un altro elemento da evidenziare che riguarda la struttura è il rivestimento interno in ceramica questo particolare materiale è resistente all'usura e al deterioramento e risulta più semplice da pulire rispetto al classico metallo smaltato molto interessante anche l'apertura ribalta della porta che risulta più comoda rispetto a quella laterale segnaliamo infine una vasta dotazione di accessori che comprende due griglie una teglia un contenitore ed il piatto girevole in vetro passiamo ad osservare le caratteristiche tecniche di questo forno oltre alla classica cottura che sfrutta le microonde sarà possibile cuocere in modalità grill o in modalità ventilata le tre modalità di cottura potranno poi essere combinate in specifiche funzioni di cottura segnaliamo che la resistenza interna utilizzabile per la cottura grill a dimensioni più ampie rispetto agli altri forni sarà quindi possibile cuocere in modo uniforme anche porzioni più grandi l'attivazione delle funzioni e dei programmi di cottura è regolata da una manopola e da pulsanti presenti nella parte laterale del forno le impostazioni potranno essere monitorate tramite il display led le funzioni i programmi di cottura consentiti da questo prodotto sono molteplici oltre a quelle classiche segnaliamo la presenza delle funzioni yogurt scongelamento lievitazione dell'impasto riscaldamento risparmio energetico e cottura sana che consente di cuocere gli alimenti sfruttando il vapore o la modalità grill prepariamo insieme il pollo arrosto sfruttando il programma di cottura automatica di cui questo forno a microonde combinato dispone non è stato necessario impostare né tempi né temperature tutto il processo dallo scongelamento alla rosolatura è stato completamente automatico siamo molto soddisfatti dalla cottura del pollo che ci sembra ottima l'esterno è croccante mentre l'interno è risultato morbido in conclusione possiamo consigliare l'acquisto di questo prodotto a nuclei familiari medio grandi anche fino a 8 persone e in generale a chi desidera un prodotto multifunzione in grado di sostituire occasionalmente il forno tradizionale grazie per averci seguito alla prossima